Bene, ciao a tutti, bentornati in questo video flash sui mercati criptovalute. Sono Mauro Caimi, aggiorniamoci su quello che sta avvenendo. In questo istante Bitcoin quasi più 10%. Boom, boom ragazzi, mi viene in mente un vecchio brano di Rene Grandi. Boom, boom batte il cuore. Bitcoin sale ragazzi. Ho deciso di fare una cosa, di farvi vedere la mia piattaforma, il mio desk personale, quello di Multicharts, dove i sistemi di trading agganciati e dove c'è un indicatore che si chiama Over Volatility Range. È un indicatore di volatilità che ho fatto io ragazzi, che mi serve per tenere imbrigliato Bitcoin e capire quando stiamo andando in ipercomprato o ipervenduto a livello settimanale. Guardo questo indicatore per capire se siamo in una zona di possibile eccesso del mercato da un punto di vista settimanale e quando ci sono questi super boom, super pump o anche super dump. Questo indicatore mi aiuta tantissimo ragazzi per fare le mie considerazioni sul take profit o eventualmente anche uno stop loss al ribasso e mi aiuta moltissimo a prendere queste decisioni. Quindi siccome era un video in atteso questo ragazzi, però so che molti di voi sono sicuramente alle prese con questa decisione in questo momento. metto il take, non metto il take, vado in profitto, sono dentro, devo uscire, cosa devo fare. Allora ragazzi, parliamo un attimo di questo anche in questo video, poi vi faccio vedere tra pochissimi minuti i miei grafici sono già dietro di me, li vedete ragazzi, il mio workspace operativo, quello che pubblico nella mia Academy ogni giorno. Parliamo con questi grafici, andiamo a vedere la nostra operatività e vi faccio vedere quello che sto facendo, tutti i miei sistemi long in questo momento, che sono operativi, il famoso mid term, ormai sta diventando famoso tra gli amici dell'Academy perché non sbaglio un colpo ragazzi, io insomma incrocio sempre le dita, ok? Va bene, allora ragazzi, quando prendere take profit su un mercato che fa pump? Quando il trend inverte, non prima. punto, soprattutto su un mercato come quello di Bitcoin ragazzi, va bene, siamo nella fase centrale di un ciclo mensile iniziato il 16 di aprile, ne abbiamo parlato nel video di lunedì, però il mercato quando vuole andare su ragazzi, soprattutto su, più che giù, soprattutto su, soprattutto i mercati delle cripto, non si fermano a volte, quindi non bloccate il vostro profitto quando i mercati vi danno il gain, dovete essere avidi sul gain ragazzi, chiudete un'operazione solo nel momento in cui il mercato inverte il trend, dove sul time frame che voi utilizzate per fare la vostra strategia di trading. Adesso vi faccio vedere i grafici e come si ragiona. In questo modo dovete ragionare su Bitcoin ragazzi, perché Bitcoin quando fa pump e anche quando fa dump purtroppo ci lascia, ci lascia, come si dice, la sabbia, la polvere davanti a noi ed ha la possibilità di salire veramente in maniera consistente perché la sua esplosività è molto consistente, l'abbiamo visto in questi anni. Quindi ragazzi, dove mettere il take profit quando siete in posizione su un mercato come Bitcoin? Quando inverte il trend, lasciate scorrere il trend, non bloccate i profitti. Invece dovete bloccare le perdite quando avvengono. Quando avvengono le perdite, se superano il vostro stop loss, dovete chiudere subito. Ma quando i profitti sono consistenti, lo so che a volte noi abbiamo questo bias del dire ho guadagnato troppo, ora chiudo. No, solo quando inverte il trend, mai prima dell'inversione di trend. Trend is your friend. Cacchio, non c'ho la maglia ragazzi oggi, non c'ho la maglia. Ah, eccola ragazzi, ok, la sono andata a recuperare. Trend is your friend ragazzi, ok? Non ve la dimenticate questa frase, anzi la teniamo qua, ok? Farò il video con questa, stile bandiera. Adesso ragazzi la mettiamo così, ok? E sarà così per tutto il video, stile bandiera. Va bene, allora vi porto sulla mia, sulla mia piattaforma, velocemente, oggi è un video un po', insomma, simpatico ragazzi, anche perché sinceramente ho già fatto il video del canale YouTube, quindi questa è una flash news. Allora ragazzi, questi sono i miei grafici, i miei time frame, quelli che analizziamo in Academy, tutti i giorni, in pratica. vi faccio vedere che cosa è successo qui con un nuovo sistema che analizza le fasi cicliche intraday, quelle daily che stiamo utilizzando, non è da prendere, da seguire in maniera precisissima, proprio al dettaglio, però questo è un super trend che vedete, con dei miei indicatori che sono stati fatti da me, sono stati modificati nelle formule per adeguarsi ai mercati delle criptovalute ed è un ingresso intraday, diciamo così, l'ha fatto ieri in linea di massima ed è avvenuto a 7.700 ragazzi. Poi quelli invece, questo è un daily ragazzi, chiuderà quando il mercato va giù sotto questi indicatori, questo è un super trend, più delle medie mobili, ma è un super trend che non potete ritrovare così ragazzi, perché la formula interna del super trend l'ho modificata per inserire delle variabili che mi servivano per fare questo grafico, però insomma, io sto mandando anche questi segnali in Academy, guardate però i volumi ragazzi che sostengono questo pump che è stato importante, prezzi di Bitfinex in questo momento. Andiamo invece a vedere quello che, questi sono gli altri grafici ragazzi, poi abbiamo anche altri sistemi, insomma qui c'è un sistema più lungo che è entrato in questo punto, intorno ai 7100, è entrato con il super trend che ha invertito, guardate che cosa ci ha regalato qui veramente, tanta carne al fuoco in questa fase, anche quello che vedete qui sotto ragazzi, è un RSI modificato da me per seguire la fase ciclica, che in questo caso, questo è un ciclo da due settimane e sta seguendo il mensile, vedete la fase ciclica di natura ternaria, probabilmente seguirà questa fase, porterà una sua chiusura intorno al 5-4 di maggio, quindi vi ho accennato questa cosa, poi la vediamo sul canale lunedì, comunque volevo farvi vedere la mia, il mio desk ragazzi operativo, oggi sono euforico per quello che sta accadendo, allora, da un punto di vista, eccolo qui, allora vi prendo invece quello che è l'over volatility range, che è quello che mi serve darvi perché è l'informazione che potete utilizzare da questo video per la vostra posizione in questo momento, è solo un video flash, allora ragazzi, guardiamo un po' questo grafico, è inutile che lo guardate per dire ma che time frame è, perché è un time frame modificato, quindi ragazzi, qui entriamo nelle logiche proprio da quantitativo, lasciate perdere questa cosa, quello che mi interessa dirvi qui è esattamente questi punti qui, quelli che vedete in questo momento che vi ho ingrandito questa fascia di prezzo, ragazzi, tra 8.6 e 70 9.4 e 20 questi sono i livelli i livelli che indicherebbero secondo questo mio indicatore che ho chiamato over volatility range ok, questo indicatore mi indicherebbe che solo sopra questo livello qui in questo momento quindi sopra 8.6 e 70 bitcoin andrebbe in una fase non di eccesso ragazzi ma di settimana abbastanza volatile quindi avrebbe fatto tanta strada in maniera molto consistente e potrebbe da questo punto in poi iniziare a riposarsi dove è la FOMO quella che noi chiamiamo FOMO la FOMO si avrebbe solo sopra questo livello ragazzi sopra il 9005 sopra il 9005 qui dentro andremmo nella famosa FOMO quindi eccesso settimanale di rialzo ragazzi solo da qui in poi mentre in questa fetta di torta in questi diciamo in questi due punti ok ragazzi scusate mi sono fermato allora tra 8600 e 9004 bitcoin avrebbe raggiunto la sua naturale fase di espansione del range quindi fase di incremento quindi dove l'eccesso di rialzo settimanale lo troviamo dopo la forchetta tra 8670 e 9004 questi due punti sono il contenuto anche che vi volevo regalare con questo video per chi di voi in questo momento è titubante perciò ragazzi non sto dicendo che dovete chiudere le posizioni solo se arrivate a 8600 9400 solo in quel range vi sto dando un'informazione di estensione di eccesso di volatilità che vi dice che dentro quella finestra fino a quando siamo lì tutto è ok sopra siamo in maniera molto eccessiva ma quando siamo arrivati in quella finestra il mercato potrebbe anche dire ok per questa settimana basta così questo è il significato ma nulla toglie ragazzi che il mercato potrebbe anche dire basta così da adesso va bene ragazzi perché su quello dovete guardare il trend ancora una volta trend dovete guardarlo sui vostri time frame quindi se usate il 15 minuti avete visto vi ho fatto vedere il mio grafico a 15 minuti poi uscite in quel caso però io seguo anche questi indicatori volevo rendervi partecipi anche di questa cosa in questo momento di super pump mauro game qui con voi iscrivetevi al canale lasciatemi un like perché questi sono video importantissimi per chi fa trading e come noi in questo momento è felice di una situazione del genere quindi mi raccomando ragazzi like ok ciao a tutti